E' tutta la vita che mi addestro per una situazione simile, ma è peggio di quanto immaginassimo. Abbiamo pochi dati e non possiamo assolutamente fallire. Non finché Manhattan è bloccata e Brooklyn è in bilico. Quelli come noi sono l'ultima linea della resistenza. Al momento la maggior parte dei quartieri è occupata e controllata da criminali. Vanno in giro a prendere quello che vogliono e uccidere chi gli pare, perché noi non possiamo fermarli. Una zona così grande. Tutti quei delinquenti. Non vorrei lasciarvi in mezzo ai lupi. Capitano, noi siamo i lupi. Questa è la mia gente, la mia città. E ce la riprenderemo. Capitano, noi siamo i lupi.